Mi sta affamando la pancia sera, se ne ho un po' preso di ispirato Sto a dire la cosa che ti è Yuppi, Yuppi, Lui, Lui Yuppi, Lui Yuppi, Lui Sta a filmare questo Su Youtube Come tu su Youtube, ti giuro Su Youtube, come dovevo fare, metterlo all'altro tempo Questa Sì 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 Sì